Tonificazione gambe e glutei con esercizi a terra, un workout completo senza salti da svolgere tutto sul tappetino. Vamos! Ok, iniziamo di scesa sui fianchi, iniziamo subito con il riscaldamento della parte centrale del corpo e poi scaldiamo tutta la parte alta e la parte bassa prima di questo super workout. Vamos! 5, 4, 3, 2, 1, skip e rotazione oraria. Movimento ampio, controllato, testa dritta, sincronizzo i due e i due movimenti, lavoro sia su gambe che su braccia. Scaldiamo bene le spalle, 5, 4, 3, 2, 1, mantengo lo skip ma con la rotazione anti-oraria. Vai, respiro, respiro, respirazione naso-bocca, attiviamo da subito. 3, 2, 1, cambio, mezzo squat, allarghiamo un po' le gambe, allarghiamo le punte, iniziamo ad attivare gambe e glutei. 10 secondi e passiamo, slancio gluteo, gamba sinistra, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, slancio gamba sinistra, vai, piego leggermente la gamba destra, slancio la sinistra, iniziamo ad attivare il gluteo, vai, 5, 4, 3, 2, 1, e cambio dall'altra parte, gamba destra, vai, appoggio il ginocchio, punta e slancio, punta e slancio, respiro. Attiviamo bene il gluteo, vai, 5, 4, 3, 2, 1, cambio ancora, vai con la calciata, respiro, scaldiamo bene tutta la parte bassa, ci prepariamo per la camminata laterale più ginocchio su, 5, 4, 3, 2, 1, vai, camminata e ginocchio su, mantengo il ritmo, vamos, respiro, vai, sincronizzo il movimento con le braccia, vai, camminata laterale e ginocchio su, camminata laterale e ginocchio su, vamos, pam, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, andiamo giù a terra, posizione di quadrupedia, gomito a terra, apertura laterale, iniziamo prima con una gamba, 3, 2, 1, vai, apertura laterale, mantengo la gamba a 90, piede a martello, allargo e chiudo, attiviamo il gluteo, vai, pam, pam, 3, 2, 1, cambiamo lato dall'altra parte, vai, vado in posizione, 2, 1, allargo, allargo, il gomito posto alla gamba che lavora è a terra, testa dritta, allargo e chiudo, mantengo la gamba a 90, 3, 2, 1, recupero attivo, slancio su una gamba piegata a 90, 3, 2, 1, vai, piede a martello, gamba a 90, 3, 2, 1, salgo piano e scendo piano per attivare il gluteo, vai, mantengo il ritmo, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, cambio dall'altra parte, stesso esercizio sull'altra gamba, salgo piano e scendo piano per lavorare bene il gluteo, vai, respiro, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, movimento laterale, ritorniamo in posizione, gamba tesa, slancio e ritorno, slancio e ritorno, tocco la punta e ritorno, vai, braccia in linea con le spalle, mantengo il ritmo, attiviamo il gluteo, 3, 2, 1, cambio, gamba tesa, slancio, tocco movimento laterale, slancio, tocco movimento laterale, vai, mantengo il ritmo, respiro, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, apertura laterale da terra, 3, 2, 1, vai, allargo e chiudo, movimento lento, movimento lento, controllato, braccio in avanti, schiena in linea col pavimento in sicurezza, 3, 2, 1, cambio, ci giriamo dall'altra parte, allungo il braccio, 3, 2, 1, vai, allargo e chiudo, 10 secondi, vai, mantengo il ritmo, respiro, testa giù, 3, 2, 1, recupero attivo, slanci più piegamento, iniziamo con la gamba sinistra, 3, 2, 1, vai, slancio, piegamento e ritorno, slancio, piegamento e ritorno, mantengo il ritmo, respiro, vai, 5, 4, 3, 2, 1, cambio gamba dall'altra parte, slancio, blocco, piego e ritorno, vai, e ritorno, e ritorno, respiro, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, schiena a terra, andiamo a lavorare sul ponte, attiviamo i glutei, 2, 1, vai, salgo e scendo, braccia bene appoggiata a terra, testa dritta, salgo e scendo, ci prepariamo per rimanere in isometria, 3, 2, 1, salgo e rimango, mantengo la posizione, mantengo il pavimento pervico in alto, non cedo col bacino, schiaccio il gluteo, mantengo la posizione e respiro, ancora, 3, 2, 1, scendo, apertura laterale più distensione, e ritorno, separo bene i due movimenti, vai, apertura distensione e torno, apertura distensione e torno, ancora, 3, 2, 1, recupero, ci giriamo, dall'altra parte, stesso esercizio, 3, 2, 1, allargo distensione e torno, vai, apertura distensione e torno, respiro, ancora, ancora, mantengo il ritmo, 3, 2, 1, recupero attivo, schiena a terra, ponte ad una gamba, destra in appoggio, 3, 2, 1, vai, destra in appoggio, lavoro sulla sinistra, sali e scendi, braccia laterali, testa dritta, mantengo il ritmo e poi cambiamo gamba, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, sinistra in appoggio e salgo con la destra, vai, respiro, non mi fermo, salgo bene, scendo, appoggio bene il talone a terra, 3, 2, 1, ci giriamo in posizione di quadrupedia, con la gamba sinistra andiamo in puls, vai, salgo, pedia martello e mantengo il puls, mantengo la posizione, mantengo l'esercizio, 10 secondi e cambiamo gamba, vai, 5, 4, 3, 2, 1, e cambio, pedia martello, salgo in posizione, gamba a 90, mantengo la posizione, attiviamo il gluteo, respiro, testa dritta, mantengo la posizione, 3, 2, 1, slancio con la gamba piegata a 90, 3, 2, 1, vai, sali e scendi, movimento è letto, controllato, gamba a 90, piede a martello, salgo piano e scendo piano, mantengo il ritmo e poi cambiamo gamba, vai, sali e scendi, controlla, controlla, attiviamo il gluteo, 5, 4, 3, 2, 1, e cambio dall'altra parte, vai, gamba a 90 gradi, piede a martello, salgo e scendo piano, respiro, mantengo la posizione di quadrupedia, braccia in linea con le spalle, vai, respiro, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, movimento laterale, ritorniamo sull'altra gamba, sempre posizione di quadrupedia, 3, 2, 1, distendo la gamba, movimento laterale, vai, slancio, movimento laterale e ritorno, slancio, movimento laterale e ritorno, mantengo il ritmo senza forzare, piccolo slancio e movimento laterale, 10 secondi e cambiamo gamba, vai, ancora, 3, 2, 1, cambio, allungo bene l'altra gamba, piede a martello, slancio e movimento laterale, slancio e movimento laterale, vamos, respiro, mantengo il ritmo, non mi fermo, braccia in linea con le spalle, vai, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, slancio con la gamba piegata 90, 5, 4, 3, 2, 1, vai, piede a martello, gamba 90 gradi, salgo piano e scendo piano, mantengo il ritmo, attiviamo bene il gluteo, mantengo la posizione di quadrupedia, respiro, ancora e cambiamo gamba, 5, 4, 3, 2, 1, cambio subito dall'altra parte, piede a martello, gamba a 90 gradi, respiro, mantengo il ritmo, non mi fermo, vai, ancora, 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 vamos, attiviamo il gluteo, dai, su, resisti, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, ci giriamo, schiena a terra, gamba sinistra, gamba sinistra in appoggio, sali con la destra e vai col pulso, salgo, mantengo il gluteo in alto, senza scendere, resisti, dai, ancora, attiviamo bene il gluteo sinistro e poi cambiamo dall'altra parte, 10 secondi ancora, ti puoi aiutare con le braccia laterali, 3, 2, 1, scendi piano, sali con l'altra gamba e andiamo a fare il movimento di pulso sull'altra gamba, lavoriamo l'altro gluteo, respiro, testa dritta, mi aiuto con le braccia laterali a terra, 10 secondi, vai, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, giù, recuperiamo, ci prepariamo per lo stretching di varicata frontale, allargo le gambe, scendo piano piano frontalmente, provo ad allargare ancora le gambe, mantengo la posizione di divaricata, vai, con l'espiro, 3, 2, 1, risalgo piano piano, incrocio su gamba sinistra, 3, 2, 1, vai, la gamba frontale leggermente piegata, lo stretching viene percepito nella gamba posteriore, 3, 2, 1, risalgo piano, incrocio sulla gamba destra, vado giù, piego la gamba frontale leggermente, vado a percepire lo stretching dietro, respiro, 3, 2, 1, risalgo, scendiamo ancora sul tappetino, schiena aderente a terra, entrambe le ginocchia sul petto, 3, 2, 1, vai, testa dritta, respiro, mi rilasso, mantengo la posizione di stretching abbracciando le ginocchia senza forzare, mantengo la posizione, respiro, 3, 2, 1, ci giriamo, seduta sui talloni, 3, 2, 1, scendo piano piano dietro, vado giù, allungo le braccia, giù con la testa e respiro, respiro, mantengo la posizione di stretching, 3, 2, 1, risalgo piano piano e ci siamo, il tuo allenamento è finito, ci vediamo al prossimo workout, vamos! Foto!